Fragola! Sì, questo è profumo di fragola! Panda e i suoi amici videro del gelato alla fragola spalmato sul tronco dell'albero. Penso che siamo sulla strada giusta! Andiamo, da questa parte! Per un po', tutti seguirono con successo il profumo di fragola. Tuttavia, quando la strada portò alla palude, il profumo delle fragole lasciò il posto all'odore di fango!